È una giornata, è un nuovo inizio, diciamo così, abbiamo finalmente raggiunto l'obiettivo, siamo qui per giurare, è un giorno emozionante, diciamo in questo periodo in cui siamo un poco tutti sotto, molto in ansia per il concorso che ci sarà breve, quindi è anche un modo per staccare, alzare la testa dei libri e giurare davanti a tutti perché è quello che abbiamo sempre voluto fare nella vita, abbiamo lottato per questo e speriamo in un lieto fine per tutti. Io personalmente ho già scelto di voler rimanere qui nella mia città perché voglio partecipare alla crescita della mia città e della mia regione, così come anche di tutta l'Italia, poi ovviamente si deciderà tutto il giorno del concorso perché le scuole di specializzazione che abbiamo qui a disposizione sono ottime scuole, quindi è anche difficile poter centrare, di conseguenza spero vivamente di poter rimanere.